È passato un anno dalla presentazione della tua prima Ferrari da Team Principal e adesso è il momento di questa SF16H. Ogni auto, che sia da corso o no, evoca in chi la guarda già a prima vista particolari sensazioni. Quali sono le tue? Innanzitutto non è la mia Ferrari, è la Ferrari di tutta la gente che ha lavorato qui a Maranello, gli uomini e le donne che hanno contribuito a portarla in pista in tempi rapidissimi. Le sensazioni che mi dà sono diverse, la guardo e penso al design, penso alla potenza e anche un pizzico di sensualità. Definirla un'auto da corsa secondo me è troppo restrittivo, una Ferrari secondo me non è mai una macchina da corsa, è sempre qualcosa di più, qualcosa che se poi la macchina, come mi auguro, diventa vincente, entra direttamente nel mito senza mai toccare lo status di auto da corsa. Questo è quello che penso e sono le sensazioni che mi dà. Tante novità nel progetto a partire dalla sigla. Quella lettera H, che cosa significa? H è l'iniziale di hybrid, ibrido, ed è la tecnologia ormai da due anni utilizzata nello sviluppo dei motori. Credo sia una strada che è piuttosto complessa, piuttosto complicata, ma che già trova applicazioni anche nelle auto di serie. Quindi trovo corretto che la Formula 1 continui per quella strada lì, esplorando delle direzioni che parlano in realtà del futuro. Se la Formula 1 si posiziona come al top degli sport motoristici, credo che questa sia la direzione dove, nonostante le complessità e i costi, è questa la direzione alla quale tutti dobbiamo andare e continuare a sviluppare. Oggi potremmo dire inizia ufficialmente la tua seconda stagione al timone della scuderia. Che cosa ti aspetti, non soltanto da te stesso, ma anche da tutti gli uomini e donne che lavorano in Ferrari? Una stagione più facile dell'anno scorso o più difficile? Sicuramente più difficile, perché lo scorso anno abbiamo raggiunto dei buoni risultati, anche se comunque Mercedes è dimostrata un'altra volta più forte di noi, ma in un certo senso era forse più facile il nostro compito, perché venivamo da una stagione precedente dove i risultati erano stati molto scarsi. Quest'anno le aspettative da parte di tutti sono diverse e quindi sentiamo il peso della responsabilità di far bene, ma soprattutto non vogliamo deludere nessuno a partire da noi. Quindi sì, sicuramente quest'anno sarà molto, ma molto più difficile. Diversi le aspettative, ma uguali alla formazione dei piloti, con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. E da loro che cosa ti aspetti per quest'anno? Innanzitutto cosa mi aspetto da tutti noi, quello che chiedo a me stesso e a tutte le persone che lavorano in Ferrari. Noi siamo una squadra, i piloti hanno un compito preciso, che è quello di portare la macchina al traguardo e magari vincendo il nostro compito è quello di metterli in condizione di avere una macchina assolutamente vincente. Quindi parlando di nuovo di squadra, i piloti sono una componente importantissima della squadra, ma voglio dire altrettanto importante il lavoro che la squadra deve fare. Noi in questo ci siamo impegnati molto, come dico sempre, con i piedi per terra e a testa bassa, ma anche con grande umiltà e consapevolezza del fatto che abbiamo un avversario fortissimo da battere, che è la Mercedes, e quindi dovremmo fare di tutto per stargli davanti.